Ma, in, applaudissimi, tira il vecchietto, la palina va nel lago, ma per caso c'è un pescione vicino che la vede e se la mangia. Ma per caso c'è un uccellaccio che vola sopra, vede il pesce, scende giù e se lo mangia. Ma per caso c'è un cacciatore che basta di vivere la scena, spara all'uccellaccio che casca, vomita il pesce, che vomita la palina, che finisce in buca. E' un russone che vola sopra Gesù e gli dice, caro Gesù, io con te sempre, ma con tuo padre a golf non lo compito. Allora, guarda un attimo, guarda, concludiamo con una canzone, per quanto riguarda i rapporti con il mio vento di trattore francese. Allora, con una che sono due. Una ve la do perché è bellissima, ed è un momento di poesia, dice, tanto tempo, tanto tempo dopo, che i poeti sono spariti, le loro canzoni furono ancora nelle strade. La gente le canta, non sa, per chi batteva il loro cuore, non sa il loro nome. Tanto tempo, qualche volta, non si ricorda una parola, una frase, allora si fa, la la la, la 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 la. Le canzoni, tanto, tanto tempo dopo, e quelli sono morti, tutti muovono ancora nelle strade. La loro anima fa ridere, fanno ridere, ragazzi e ragazze, un suaccio.